Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Ilaria e questo è un nuovo video True Crime. Come sempre voglio ringraziare tutti gli iscritti e chi spende del tempo per visualizzare i miei video, grazie di cuore. Se siete interessati a questo genere di video, vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche e se vi va potete anche seguirmi su Instagram. Prima di iniziare con questo video vorrei fare ancora un piccolo disclaimer. Io so già che se vi trovate in questo video significa che sapete bene cosa potreste sentire. So che ne siete consapevoli, però il caso di oggi è piuttosto forte, per cui se non ve la sentite di proseguire non c'è alcun problema, tanto avete già capito dal titolo di che cosa stiamo parlando. Oggi vi parlerò del serial killer più giovane del mondo, il che significa che questo individuo ha ucciso almeno tre persone e, come avete capito dal titolo, aveva solo otto anni. In realtà il suo primo omicidio lo ha compiuto quando aveva sette anni e questo è un caso che mi è stato richiesto da molti di voi e purtroppo ci sono pochissime informazioni disponibili in rete. Ho cercato un po' dappertutto praticamente e probabilmente questo sarà anche un video piuttosto corto. Purtroppo non ci sono foto, o meglio, ne ho trovata solo una. Questa storia mi ricorda un caso che avevo già trattato, il caso di Cayetano Santos Godino. La storia è abbastanza simile, ma Cayetano era più grande quando ha iniziato ad uccidere. La maggior parte delle informazioni che ho trovato per mettere insieme questo video sono state prese da un blog che ho trovato molto interessante. Devo dire che sono pochi i blog che trattano argomenti true crime in italiano e in questo blog ho trovato articoli molto interessanti. Ho lasciato il link in descrizione, se vi fa piacere andatelo a vedere. Bene, iniziamo con il caso di oggi. Il protagonista della nostra storia è Amarjit Sada. Io spero sempre di averlo pronunciato bene, ma da quello che ho capito si pronuncia Amarjit, che è appunto il serial killer più giovane della storia. Amarjit è nato nel 1998. Non ci sono molte informazioni su di lui rispetto alla sua infanzia, ma sappiamo che è nato da una famiglia numerosa e molto povera. Ci troviamo in India nel 2007. Questa vicenda è avvenuta in un piccolo villaggio chiamato Mashari. Questo villaggio era molto povero, la maggior parte delle persone che vivevano lì vivevano proprio alla giornata ed erano lavoratori che venivano pagati pochissimo. Diciamo che la maggior parte di loro cercavano praticamente solo di sopravvivere. Lavoravano sodo per mettere giusto il piatto in tavola e non era semplice la vita in quel villaggio. Inoltre c'erano molti bambini e la maggior parte di questi bambini erano imparentati tra di loro, quindi molti di questi bambini che giocavano insieme erano o cugini o fratelli. In questo villaggio inoltre era anche presente una scuola per l'infanzia dove molte mamme portavano i loro piccoli, li portavano in quella scuola mentre appunto o lavoravano oppure si occupavano della cura della casa. Un giorno nel 2006 una bambina di soli sei anni è scomparsa senza lasciare traccia. Questa bambina faceva parte della famiglia Sada, cioè la stessa famiglia di questo piccolo serial killer. Purtroppo non sono riuscita a capire il nome, comunque questa bambina era la cugina di Amargit, era la figlia di uno zio materno. Molte persone al di fuori della famiglia Sada hanno notato che questa bambina era svanita nel nulla, ma nessuno ha denunciato la sua scomparsa, nemmeno la famiglia stessa, quindi nemmeno la famiglia Sada è andata alla polizia e ha denunciato questa scomparsa. Diciamo che in quel villaggio c'era una sorta di omertà e la maggior parte delle persone pensava ai fatti propri e non voleva immischiarsi in fatti di altre famiglie, ma quella non fu l'unica scomparsa misteriosa e sospetta, sospetta perché apparteneva di nuovo a quella famiglia. In effetti sempre nel 2006 una sorellina di Amargit di otto mesi era scomparsa sempre misteriosamente, ma anche in questo caso nessuno ha denunciato la sua scomparsa. Sempre nello stesso anno una donna di nome Chun Chun Devi, chiedo ovviamente scusa per la pronuncia, si recò in questa scuola materna per riprendere con sé la sua bambina di sei mesi di nome Kashbu. Purtroppo anche Kashbu era scomparsa, non si trovava da nessuna parte, nessuno sapeva dove fosse finita questa bambina e nel villaggio ancora una volta una bambina era misteriosamente scomparsa. Come possiamo immaginare una bambina di sei mesi non può andare lontano. A quel punto alcune persone del villaggio iniziarono a chiacchierare e a parlare, a confrontarsi con loro e venne fuori che la famiglia Sada aveva qualche scheletro nell'armadio, erano già scomparse delle bambine, quindi la gente ha iniziato a parlare, erano tutti molto sospettosi di quella famiglia, motivo per cui alcuni abitanti del villaggio hanno finalmente chiamato la polizia. A quel punto la polizia ha iniziato ad indagare su queste scomparsi misteriose e iniziò concentrandosi sui membri della famiglia Sada, iniziò a interrogarli e a un certo punto alcuni componenti di questa famiglia iniziarono a parlare e questo li portò a parlare direttamente con Amarjit. La polizia non credeva che un bambino di otto anni potesse essere collegato a queste misteriose sparizioni. Io dico sempre sparizioni ma non so se si può dire, comunque ditemelo nei commenti se sto dicendo un termine corretto. Ma quando gli agenti chiesero al bambino se sapesse qualcosa sulla scomparsa di Kashbu, Amarjit sembrava saperne di più. Gli agenti hanno iniziato a fare alcune domande ma lui subito non rispose e comunque gli agenti hanno continuato a fargli domande, a parlargli e a un certo punto il bambino ha iniziato a sorridere. Era un ghigno abbastanza inquietante, provate a immaginare un bambino a cui vengono fatte delle domande e domande su questioni abbastanza importanti diciamo. La sua espressione era ovviamente preoccupante e inquietante e la polizia iniziò a sospettare che il bambino fosse coinvolto in tutta quella faccenda, motivo per cui portarono questo bambino alla stazione di polizia. Una volta arrivati in centrale la polizia iniziò ad interrogare Amarjit ma lui non rispondeva, non diceva nulla. A un certo punto però Amarjit iniziò a parlare, disse alla polizia che se gli avessero dato dei biscotti e delle caramelle avrebbe iniziato a parlare, avrebbe detto qualcosa rispetto alla scomparsa di queste bambine. A quel punto Amarjit iniziò a parlare e gli agenti rimasero letteralmente sconvolti dalla facilità con cui Amarjit ha iniziato a raccontare alcune cose. In realtà ha iniziato a parlare proprio dei suoi crimini. Infatti c'era lui dietro alla scomparsa di queste bambine. Iniziò a raccontare cosa aveva fatto alla piccola Kashbu. In pratica aveva rapito la piccola proprio lì alla scuola elementare e in quel momento però non lo vide nessuno perché non c'era nessuno con lei. Questa bambina era da sola. Io so che per molti di voi sembra assurdo però ricordiamoci il posto in cui era questa bambina. Cioè era un villaggio frequentato da tantissimi bambini quindi è probabile che insomma le maestre non abbiano controllato fino in fondo. Questa bambina era da sola quindi questo ha facilitato il suo rapimento. Amarjit quindi l'ha portata in un bosco in un posto lontano dalla scuola e lì ha iniziato a strangolarla. Ma quell'atto non fu abbastanza soddisfacente per lui. Cioè per lui non era divertente strangolare questa bambina perché non vedeva delle reazioni da parte di questa piccola. Disse che non era soddisfatto perché voleva vedere la paura negli occhi di quella povera creatura. Quindi raccolse un mattone da terra e iniziò a colpirla in testa fino a quando la piccola non è morta. La polizia era inorridita da quel racconto e non sapevano nemmeno se credergli. All'inizio pensavano che fosse tutto frutto della sua immaginazione. Cioè a loro sembrava assurdo che un bambino di otto anni potesse parlare così facilmente di un brutale omicidio e quindi non gli credevano. Fino a quando però il bambino non li portò proprio sul posto dove aveva cercato di nascondere il corpo della piccola cashbu. Era in un campo ai margini del villaggio e aveva scavato una fossa poco profonda e l'aveva seppellita lì. Il corpo della bambina era ricoperto da pochissima erba e aveva appunto i segni dei colpi sulla testa. Trovarono anche il mattone ancora sporco di sangue. A quel punto si sono resi conto che quel bambino non stava mentendo e che non era tutto frutto della sua immaginazione. Avevano appena trovato il corpo della bambina quindi lo portarono di nuovo alla stazione di polizia. Una volta in centrale sembrava quasi come se Amargit non capisse del tutto perché si trovasse lì in quel momento e non capisse proprio cosa avesse fatto cioè lui non credeva di aver fatto qualcosa di sbagliato. Lui era sulla sedia sorridente che continuava a mangiare i biscotti e le caramelle e non aveva capito la gravità delle sue azioni. Gli agenti gli chiesero il motivo per cui avesse ucciso questa bambina ma lui non rispondeva nulla continuava a mangiare i biscotti e sembrava felice e sorridente. La polizia scoprì che Amargit non aveva una buona reputazione nel villaggio. Era noto per essere un bambino molto cattivo e molto maleducato. Tra l'altro era anche violento con gli altri bambini. Quando litigava con gli altri bambini era molto violento. Spesso li prendeva a calci o a pugni e capitava spesso anche che lui rubasse. Inoltre scoprirono anche che la sua stessa famiglia era a conoscenza di tutti i suoi crimini. Amargit aveva anche ucciso la cugina di sei anni nel 2006, la bambina di cui vi ho parlato all'inizio. Ebbene la famiglia era perfettamente a conoscenza che lui l'avesse uccisa e l'ha uccisa nello stesso modo con cui ha ucciso Kashbu. Aveva portato sua cugina in un'area isolata lontano dal villaggio e ha iniziato a strangolarla e la guardava mentre questa bambina aveva un'espressione terrorizzata sul viso. Lui stesso ha raccontato che la guardava mentre lei cercava di reagire e quando stava esalando l'ultimo respiro tolse la mano dal collo e afferrò una pietra che aveva trovato lì vicino e iniziò a colpirla in testa. La famiglia l'aveva scoperto subito dopo perché il bambino lo aveva confessato subito, cioè subito dopo averla uccisa è andato dai suoi genitori e addirittura lo ha anche confessato allo zio, cioè al padre della bambina, ma la famiglia ha deciso di restare in silenzio. Ma prima di questo aveva ucciso anche la sua sorellina di pochi mesi, infatti quella fu la sua prima vittima. Anche in questo caso la portò in un campo e la strangolò. Dopo questo omicidio raccontò l'accaduto ai genitori e li condusse dove aveva lasciato il corpo della piccolina, ma i familiari anche in quell'occasione decisero di mantenere il segreto. A quel punto però la famiglia è stata costretta a riferire tutto alla polizia. Secondo la legge indiana un bambino non può essere condannato a morte e non può essere nemmeno mandato in prigione. Amargit quindi è stato rinchiuso in una struttura psichiatrica ed è rimasto lì fino al compimento del suo diciottesimo anno. Questo bambino è ovviamente stato oggetto di valutazioni psichiatriche che hanno fatto emergere che Amargit era incapace di distinguere il bene dal male ed era anche affetto da sadismo, che è un disturbo di origine psichica. In pratica sentiva la necessità e piacere nell'infliggere sofferenze fisiche a queste bambine. Nel 2016 ha compiuto 18 anni e a quel punto è stato rilasciato. Dopo la sua liberazione ha cambiato nome e ad oggi nessuno sa dove si trova. Non ci sono più notizie sul suo conto ma voglio augurarmi che abbia cambiato vita e che abbia fatto un percorso per essere reinserito nella società. Auguriamoci che al momento questa persona stia conducendo uno stile di vita normale e tranquillo e che non sia un pericolo per nessuno. Speriamo davvero. Anche il video di oggi è finito. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questa storia. Sono sicura che alcuni di voi la conoscevano già. Fatemi sapere cosa ne pensate. Dove pensate che sia andato a finire Amarjeet? Magari sempre in India oppure potrebbe essere anche in un altro stato? Potrebbe essere anche in Italia? Speriamo di no. Comunque in ogni caso speriamo che non sia più un pericolo per nessuno. Con questo chiudo. Come sempre vi mando un grande abbraccio virtuale e ci vediamo il prossimo video. Ciao! Ciao!